buongiorno a tutti siamo qui a siwa nell'oasi di siwa che si trova all'ovest dell'egitto in mezzo al deserto vedete intorno a me le rovine di una antica città sempre nell'oasi di siwa e siamo circondati dalle palme da queste case che sono ormai disabitate e siamo un luogo molto particolare perché come potete vedere in questo momento siamo davanti al tempio dell'oracolo di siwa il grande oracolo che sta preceduto anche la pizia di delfos da tanti secoli un oracolo che è stato reso famoso perché è stato consultato da paraoni da da re e anche dallo stesso alessandro magno e quindi qui è arrivato alessandro magno stiamo entrando nel nel tempio c'erano preparativi chiaramente rituali con una grande fiamma al centro nella sala dove ci troviamo in questo momento e piano piano quindi la fiamma su questo luogo che è in cima a una montagna quindi un luogo più elevato del solito il collegamento con il cielo e qui arriviamo al naos ossia il santo dei santi luogo più prezioso dove si ricava questo simbolo diamo che era uguale come alla pizza della pizza di delfos una mezza una mezza sfera rappresentando in qualche modo il l'ombelico del mondo un luogo dove si ricevano tanti correnti energetiche e questo luogo tuttora è ancora protetto a livello energetico si sente che c'è una barriera per entrare che è quello che giustamente permetteva solo ai pensieri positivi di entrare in questo luogo e c'era una finestra e tanti simboli come potete vedere dei diversi re che si recavano proprio qua potete vedere tanti simboli di augurio su parete e in particolare potete vedere il bastone bastone di potere bastone che significava il legame fra l'alto al basso ossia per regnare bene all'epoca era imprescindibile essere all'ascolto delle forze divine che venivano ricevute qua dall'oracolo oracolo potete vederlo qua anche il viso di segmet segmet la dia e la dia della guarigione e che si vede faccia di leone con un sole sopra che era la patrona dei guaritori perciò l'oracolo non faceva solo che parlare e dare e fare profezie sul futuro ma anche dava aiuti anche molto concreti poteva anche guarire curare le persone e tutto questo avveniva in questa sala in modo particolare parlare la parte più sacra e nelle sale attinente per il resto ed era un tempio protetto non solo fisicamente perché siamo proprio in cima a una montagna che è difficile di accesso non solo dalle mure fisiche le diverse sale per penetrare ma anche da una barriera energetica che tuttora ancora esiste e che lascia passare solo chi con una certa qualità si può percepire ancora l'energia di un tempo quindi all'epoca vivere in questo mondo era imprescindibile essere un ponte fra i mondi e quello che ci chiama oggi a essere sempre più noi stessi un ponte fra il mondo dell'aldilà il mondo spirituale e il mondo terrestre grazie a tutti